Allo specchio il format televisivo la coeregie di Francesco Benigno e la conduzione affidata a me, Valentina Magazzù. Non mi trovo qui per ospitare e intervistare un noto ospite televisivo, bensì per ricordarvi che da lunedì al sabato su Antenna 1 alle 21.30 potrete gustarvi tutte le puntate già registrate. Mentre su Teleone da mezzanotte in poi, insomma farete un po' zapping, scoprirete voi l'orario, potrete vedere anche su questa rete Teleone Canale 19 le puntate di Allo Specchio. Inoltre vi ricordo che se volete potete vedermi anche nella mia pagina Allo Specchio su Facebook, format televisivo e se volete mettere un bel mi piace. Che ne dite? Ciao ciao!